Ciao ragazzi, io sono Michela e oggi voglio spendere due parole riguardo al webinar formativo che ho fatto con Daniela Marrocco. Io ho 31 anni, sono una ragazza pugliese, sono estetista da 15 anni e ho deciso di potenziare il mio lavoro perché voglio aiutare le donne ad andare oltre la bellezza esteriore. E quindi mi sono iscritta al corso per diventare coach con Master Coach Italia e nel frattempo appunto mi sono iscritta a questo webinar con Daniela perché voglio aiutare le donne ad andare oltre lo specchio, oltre il giudizio, oltre il perfezionismo e anche a ricercare la bellezza collaterale nelle cose. Mi sono iscritta al webinar formativo Bellezza e Resilienza di Daniela Marrocco perché avevo bisogno di ascoltare il parere di un'esperta come lei in quanto sentivo dentro di me cosa fosse la bellezza collaterale ma non riuscivo a dargli un'identità. Daniela ha soddisfatto appieno questo mio bisogno, è stata molto chiara, divertente, mi ha ispirato anche molta professionalità, fiducia ed empatia e avrei voluto che quel webinar non finisse mai. Si vede che ama quello che fa, che ama donarsi. E' stato tutto molto meraviglioso, ascoltare lei, fare gli esercizi e poi il magico momento della condivisione. E' un webinar che consiglio a tutti perché in fin dei conti ognuno di noi ha bisogno di sviluppare più resilienza e andare avanti nonostante tutto con amore, forza e gratitudine nel cuore. Un bacione a tutti voi e a Daniela, grande donna!